se prendete molto su serio la pesca è probabile che vi interessino molto le esche se un verme è come un hamburger un'esca artificiale come un filetto di manzo le esche artificiali attraggono i pesci imitando i cibi da loro preferiti o riflettendo la luce esistono esche di molte forme e dimensioni diverse possono raggiungere i 30 centimetri di lunghezza e pesare fino a 400 grammi praticamente quanto un telefono cellulare solitamente sono in ottone questo modello consiste in un foglio di ottone dello spessore di meno di un millimetro esso viene inserito in una pressa dotata di stampi per il taglio delle varie forme che produce 2000 pezzi in un'ora sembra un'operazione rapida ma consiste di quattro fasi consecutive il primo stampo imprime il marchio di fabbrica e l'identificativo del modello sull'esca pratica una fessura al centro e due fori all'estremità il secondo stampo da forma all'esca il terzo taglia il quarto e ultimo stampo conferisce a ogni pezzo una forma a cucchiaio per questa ragione questo tipo di esca è comunemente detto cucchiaio questa forma fa muovere l'esca nell'acqua come un piccolo pesce quell'oggetto azzurro in basso a destra è un erogatore d'aria serve a spingere le esche uscite dalla pressa in un collettore le esche artificiali variano per dimensioni forma e consistenza la placatura eseguita con diversi metalli crea effetti diversi nell'acqua tutti questi fattori determinano il tipo di pesce che ogni esca tratta il processo di placatura è definito elettro placatura perché si svolge sfruttando l'elettricità gli operai collegano le esche agli elettrodi le immergono in una soluzione acida e le fanno attraversare da una corrente elettrica negativa il metallo della placatura viene invece attraversato da una corrente positiva l'acido dissolve il rame in particelle caricate positivamente ciò le indirizza verso le esche caricate negativamente che si rivestono così di un uniforme strato di rame dopo un'adeguata sciacquatura le esche passano alla vasca successiva per la placatura al nickel dopo essere state sciacquate di nuovo è il momento dell'ultima placatura quella in argento la placatura in argento richiede due strati di rame e nickel per impedire che l'argento si anerisca le esche vengono rivestite con una lacca trasparente le esche flaccate in oro a 24 carati non richiedono smaltatura perché l'oro non si ossida quindi la decorazione uno dei modi per decorare le esche consiste nella tampografia una macchina applica l'inchiostro a una placca metallica incisa con un disegno quindi un tampone in silicone viene premuto sulla placca il tampone è poi applicato all'esca sulla quale trasferisce il di sé l'inchiostro è ad asciugatura rapida per evitare che sbafi in alternativa si possono usare le calcomanie esse aderiscono grazie a una colla impermeabile prodotta appositamente per l'industria della pesca dopo la decorazione all'esca viene attaccata un'ancoretta in seguito l'esca e l'amo verranno uniti alla lenza alcuni modelli hanno ami decorati il principio si fonda sulla necessità di dare colore all'esca per renderla più appetitosa per fare ciò si avvolge un filo di nylon all'asse del lamo recidendone poi l'estremità quindi si aggiungono due piume di colori diversi vengono prese dal collo del gallo e applicate attorno all'asse del lamo sopra il filo di nylon le piume di colori diversi si confondono tra loro e coprono la testa del lamo rendendola invisibile le piume vengono assicurate al lamo grazie a un altro giro di filo di nylon qui viene applicata una decalcomania su un'esca di tipo diverso il cucchiaino la cui caratteristica è una continua rotazione per riflettere la luce e scintillette attraendo i pesci infine si attacca l'amo all'esca secondo la sua complessità e il numero di placature necessarie la fabbricazione di un'esca può richiedere dai 45 minuti alle due ore molto tempo per creare eschi irresistibili per i pesci di un'escazione